Per affrontare questa epidemia di Ebola è necessario coordinamento, organizzazione e gestione. I volontari sono importanti ma non sono il sistema con cui si controlla Ebola. Le organizzazioni governative e le organizzazioni internazionali debbono riacquistare il controllo di questa epidemia. Senza questo, senza un'organizzazione ferrea si rischia di buttare via risorse. Solo un'azione coordinata potrà fermare questa epidemia.